I legali di Fabio Di Lello, il 34enne di Vasto accusato dell'omicidio del 21enne Itaro De Lisa, hanno presentato un'istanza al GIP Caterina Salusti con la quale hanno chiesto la concessione degli arresti domiciliari per il loro assistito. Di Lello lo scorso 4 febbraio si era avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia in carcere. Per gli inquirenti si è trattato di un omicidio per vendetta. De Lisa il 1 luglio del 2016, passando in macchina con il rosso ad un semaforo, aveva travolto ed ucciso la moglie di Di Lello che si trovava a bordo di uno scooter. Il giovane era stato accusato di omicidio stradale e la prima udienza era stata fissata al prossimo 21 febbraio. Gli avvocati Giovanni Cerelle per Paolo Andreoni ritengono che il regime carcerario sia incompatibile con le condizioni del presunto omicida per la grave situazione psicologica e psicofisica in cui versa. Sta malissimo, dicono i legali, piange in continuazione e non riesce a venire fuori da questo stato di prostrazione. Dalla morte di sua moglie Roberta Smargiassi la vita di Di Lello era completamente cambiata. Non era più la stessa persona, hanno detto più volte familiari ed amici. Pensava sempre solo a lei. Ogni giorno si regava a pregare sulla sua tomba ed è qui che i carabinieri hanno rinvenuto una pistola calibro 9. L'arma era regolarmente detenuta. Ed era stato proprio per le sue condizioni che lo scorso 4 febbraio non era stato possibile per il PM Giampiero Di Florio e Gabriella De Lucia e per il Gipsalusti procedere all'interrogatorio. Fabio aveva detto alla madre Lina qualche giorno fa. Si è lasciato andare pian piano. Soffrivamo molto nel vederlo così. Si trascurava ed era ingrassato di 30 chili. Il nostro timore era che potesse suicidarsi ma nessuno poteva immaginare un epilogo come questo. Avrei dovuto fare di più per aiutarlo. Intanto i legali dell'indagato che era in cura da un medico continuano a raccogliere documenti al fine di poter far eseguire su Di Lello una perizia psichiatrica. Accertamento necessario per capire fino a che punto il loro assistito fosse stato inghiottito in un tunnel sfociato nella vendetta. L'obiettivo è quello di confutare la premeditazione nel reato di omicidio volontario.